Sono ripartiti i lavori all'auditorium di Omenia e si spera di inaugurarlo entro la fine dell'anno. Si sta definendo con la Regione l'accordo di programma per la palestra, nel frattempo alla ripresa delle elezioni si cercherà una soluzione tampone. Lo ha affermato il Presidente Nobile nel corso del Consiglio Provinciale odierno. All'ordine del giorno l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo polo liceale di Omenia, nella parte riguardante l'accettazione dell'accessione gratuita in diritto di superficie di terreni dall'amministrazione omenese. Le aree in questione riguardano quella dove è stato realizzato l'auditorium ed una piccola porzione di terreno dove sarà edificata la palestra. Approvazione con l'assenzione del Consigliere Pdl Sebastiano Gallina, che ha criticato l'accessione da parte del Comune di Omenia del solo diritto di superficie. Nel corso dell'assise poi il recesso con i voti della maggioranza, dalle quote associative annuali dell'Ecomuseo della Godorta, 2000 euro, e dell'Orchestra Sinfonica Giovanile del VCO, 500 euro. Decisioni che si collocano all'interno della profonda crisi finanziaria dell'ente e che hanno fatto tuonare al Consigliere Pdl Diego Brignoli, ma oramai cosa ci stiamo a fare? Non possiamo fare più nulla. Riusciamo comunque ancora ad accedere a qualche fondo interreg la risposta dell'assessore al bilancio Marcella Severino. Nobili ha sottolineato che con l'UPP si sta affrontando il tema del futuro delle province, la loro soppressione resta al quarto punto del governo Letta. La proposta dell'UPP è quella di una riforma istituzionale più complessiva. Votata all'unanimità la decisione di devolvere somme residuali della Cassa Depositi a Prestiti, su mutui contratti a seguito di lavori terminati, per l'esecuzione di lavori di somma urgenza lungo le strade provinciali e presso le scuole di competenza.